Al di là di qualche episodio dove noi ci potevamo atteggiare in maniera differente e che ha un po' condizionato questa partita qui, loro sono più forti di noi, sono più forti di noi di gran lunga. Non vedo un segnale definitivo ancora, quello che è il segnale in generale del tirare le somme lo faremo poi a fine campionato valutando un pochettino tutto. Ora c'è da prendere atto di quello che succede facendo dell'analisi in maniera corretta senza lasciarsi travolgere o coinvolgere troppo emotivamente perché ci giochiamo ancora tanto da qui alla fine.